Trulum di Synergy Worldwide è l'essenza dell'autentica luminosità, una pelle sana e luminosa intrinsecamente giovane. Il tempo che passa, gli agenti inquinanti, le radiazioni UV e altri fattori ambientali possono danneggiare e spegnere la tua naturale luminosità. E se invece tu potessi programmare la tua pelle per farle mantenere la sua intrinseca radiosità e attenuare le linee di espressione e le rughe, aumentare la radiosità della pelle e la sua luminosità, ridurne la rugosità. Grazie all'Intrinsic Youth Technology, il trattamento per la pelle Trulum si prende cura di tutti e tre gli strati della pelle, permettendoti di mantenere un aspetto sano e pieno di vita. A base di una miscela unica di estratti vegetali, di enzimi protettivi e di elementi nutritivi e con una tecnologia all'avanguardia, Trulum purifica, fortifica e protegge la tua pelle e ripara e previene i danni provocati dalle tossine ambientali. Purify, nutrienti di origine naturale e una tecnologia all'avanguardia, contribuiscono ad equilibrare i livelli del pH e fanno sì che le difese della pelle e i lipidi buoni impediscano agli agenti irritanti e alle altre impurità di penetrare, garantendo che tutti e tre gli strati della pelle risultino puri e in grado di regalarti un colorito più uniforme e una maggiore radiosità. Fortify, gli estratti vegetali e i polipeptidi permettono la sintesi del collagene e dell'elastina, conferendo in questo modo una maggior resilienza della pelle, la riduzione della comparsa delle rughe e quindi un aspetto della pelle più liscio, giovane ed elastico. Protect, gli enzimi protettivi e i nutrienti rafforzano i tessuti nello strato più profondo della pelle, mentre la tecnologia utilizzata ne aumenta lo spessore favorendone il rinnovamento e regalandoti una luce e una luminosità più sana. Trulum's Intrinsic Youth Technology riprogramma la tua pelle per darle un aspetto più giovane e per esaltarne l'intrinseca radiosità. Scopri la tua autentica luminosità con Trulum di Synergy Worldwide.